Strada dei Parchi, concessionario che gestisce l'autostrada 24-25, presenterà al Ministero una variante al progetto per ridurre i disagi legati ad una possibile chiusura del casello dell'Aquila Ovest dell'A24, in vista dei necessari lavori per l'adeguamento sismico dei viadotti. È quanto emerso da un incontro organizzato dal prefetto Cinzia Torraco, che ha raccolto le sollecitazioni del sindaco del capoluogo Pierluigi Biondi e che ha riunito attorno a tavolo tutti gli interlocutori. La messa in sicurezza antisismica dell'A24 nel tratto Torni in Parte dell'Aquila Ovest spiega oggi Strada dei Parchi a Rete 8 coinvolgerà un numero crescente di viadotti nella prossima primavera. Tra questi la rampa della stazione dell'Aquila Ovest, che permette al traffico proveniente da Roma di uscire dall'A24 verso la zona industriale del capoluogo. Una rampa che verrà demolita e ricostruita nel tratto che supera Via dei Medici. Al fine di abbattere i disagi in questa stazione dai flussi di traffico molti importanti, Strada dei Parchi presenta un progetto che prevede la costruzione di una rampa provvisoria. La rampa garantirà la continuità del flusso di traffico in uscita proveniente da Roma e, mediante uno stop gestito da Movieri, riuscirà ad assicurare anche il flusso dello svincolo, da e per tutte le direzioni, per tutta la durata dei lavori, senza interruzioni. Il senso unico alternato sulla rampa dello svincolo non dovrebbe creare disagi, perché picchi di traffico in uscita hanno orari diversi da quelli in entrata. Questa proposta è stata accolta da tutti gli interlocutori con favore. La riunione è stata fatta proprio per esaminare le criticità che deriverebbero da una chiusura della barriera autostradale, fatto che inevitabilmente andrebbe a far riversare i flussi di traffico sul casello dell'Aquila Est, portando disagio agli automobilisti, a pendolari e mezzi di soccorso e alle imprese impegnate nella ricostruzione. I tempi saranno brevi, perché una volta individuata la soluzione migliore dal concessionario, i lavori potranno iniziare, si stima, nel mese di aprile dopo Pasqua e dovranno terminare entro sei mesi.